ma quello può essere un cangelo vai 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 c'è anche un cavino c'è anche il galop che è non lo metto sotto no no ok mettere e sotto no 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 non lo metto sotto no 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 questa è che è vecchio Voi vanno da cuccii, voi? Ma è un'altra cosa! Viste quando andiamo con la natura per mangiare?